Radio Radicale siamo con Mario Segni per parlare di un dibattito che si è sviluppato a margine del confronto sulle elezioni regionali. Come sapete, come lei sa meglio di me, la sua regione è un po' nell'occhio del ciclone per le candidature. Noi non vogliamo entrare su questo argomento, ma vogliamo parlare di un tema che è stato sollevato perché la Lega ha presentato una proposta di legge per togliere il tetto dei due mandati ed inarzarli a tre per i presidenti delle regioni. Allora, ritiene che sia una riforma sostenibile, mentre si sta discutendo anche di premierato perché la prossima settimana il Senato inizia a discutere il disegno di legge a Palazzo Madama in affari costituzionali. Guardi, io credo che questa riforma, il passaggio da due a tre dei mandati regionali, sia a questo punto giusta. Io ero contrario, noi siamo stati contrarissimi, abbiamo quasi imposto allora al Parlamento per i sindaci il divietto di andare oltre i due mandati e credo che sia stato giusto perché la regola generale è quella del ricambio, si va due volte e poi basta. Ma adesso in Italia c'è una situazione tanto pasticciata e tanto confusa che se in qualche regione le cose vanno bene, lasciamole continuare perché poi non è facile che riprenda. Naturalmente tutti pensano giustamente alla regione che sembra andare meglio, il Veneto con Zaia. Allora, se l'obiettivo di Salvini è quello di raggiungere, appunto, in vista della nuova candidatura di Zaia, ma anche come linee generali, un allargamento, un allungamento del mandato a tre, io credo che sia giusto. Se questo poi sblocca la Sardegna, meglio ancora. Crede che, diciamo, possa essere un precedente negativo questo? Insomma, e ritiene giusto inserirlo durante un confronto politico così acceso? Questo dei tre mandati è giusto farlo subito, perché in fondo non è che poi sia un cambiamento tanto ampio, giusto farlo, mi pare ragionevole. Ora, guardi, io credo che dovremmo ringraziare il Parlamento di allora, che grazie alla nostra battaglia referendaria per la verità, ma comunque fu il Parlamento che lo fece, cambiò la Costituzione, e va ricordato a quelli che non vogliono mai toccare la Costituzione, la Costituzione può essere cambiata in meglio, non solo in peggio, per allungare, per fare l'elezione diretta del Presidente. Col caos che c'è in Italia oggi, politico, e con l'amministrazione locale, che è spesso quella nazionale, peggio di quella nazionale, lei si immagina cosa succederebbe in 15 regioni su 20 senza l'elezione diretta? Sarebbe una crisi permanente, sarebbe una cosa spaventosa. Allora, poiché alcune regioni hanno incontrato fortunatamente i Presidenti che si adattano a quella situazione, che sono capaci in questa situazione tutta particolare di difficoltà, lasciamoli governare ancora a 5 anni, un vantaggio. Allora, per esempio, sul premierato non si è deciso di, ancora non è stata inserita una norma che permetterebbe al Premier di restare due mandati o tre mandati. Allora, è giusto inserirla una norma di questo genere? Sì, questo sì. Nel governo del Paese dei limiti ci devono essere. Cioè li hanno del resto tutti i sistemi di tipo presidenziale. Gli Stati Uniti hanno iniziato con i due mandati, la Francia adesso ha ridotto, perché una volta erano due mandati, ma di sette anni, ricorderate, ci sono due mandati di quattro anni e quindi è giusto, direi anzi è necessario. Cioè il premiero due limiti, due mandati, mi pare che sono una cosa assolutamente logica. Detto questo, adesso rito, perché poi in realtà è probabilmente fuori dei problemi reali, ma l'unica carica che non ha limiti è mandato il Presidente della Repubblica. Suo padre fece un messaggio? Il mio padre fece un messaggio per chiedere la non ricandidabilità e Mattarella, quando disse... Il 63 se non sbaglio. 63. 63. Sì, sì, sì. E Mattarella, quando dichiarò che non si sarebbe voluto ricandidare, cioè non è ricandidato, che non avrebbe voluto essere rieletto, un bel messaggio in cui richiamò questo messaggio pubblico alle camere di mio padre. Secondo lei... Direi che ha una sua logica. Però, diciamo, Mattarella, quando era parlamentare, propose il bis di Scalfaro. Questo non me lo ricordo, con tutta sincerità. Me lo ricordo io, glielo posso garantire. Grazie, d'accordo, si può essere di varie idee, però, quando era lui in ballo, e io credo che lo disse, non credo che sia stata fatta una manovra per dire adesso faccio il bello, non voglio essere rieletto, poi mi faccio rileggere. Credo che fossi assolutamente convinto, assolutamente deciso da quello che diceva. Diceva, è giusto non essere rieletti. Tanto più, aggiunse una considerazione, tanto più che essendo stato già rieletto il mio predecessore, disse Mattarella, cioè Napolitano, il cambiamento, una nuova rielezione, di fatto cambierebbe la Costituzione. E di fatto è cambiato molto, perché se non si fa questa modifica di Costituzione, dovrebbero poi tutti i Presidenti della Repubblica che saranno ricandidati successivamente, a tempo indefinito. Quindi lei metterebbe mano a questa riforma? Assolutamente, questa è necessaria. Senta, e sul premierato come pensa andrà? Che cosa andrebbe chi ha cambiato lì rispetto a quello che ha sentito? Ma se è vero, come dicono i giornali di oggi, che tolgono questa stramberia che era stata messa di poter cambiare in corsa dopo un premier eletto, un premier della stessa maggioranza, mi sembrava una stupiaggine, francamente. Se è vero, allora questo è giustissimo. Dopodiché, i limiti ci vuole, perché io sono assolutamente favore, che è una riforma giusta, logica, necessaria. Bene, senta, io la ringrazio molto della sua disponibilità, come sempre, grazie a Mario Segni, col quale abbiamo parlato dei tre mandati. Grazie. Grazie.